Ma il principe di Foix, ricco di per sé, apparteneva non soltanto a questa cerchia elegante di una quindicina di giovani, ma a un gruppo più chiuso e inseparabile di quattro, di cui faceva parte anche Saint-Lou. Erano invitati sempre e soltanto insieme. Venivano chiamati i quattro gigolò e sempre insieme li si poteva vedere all'ora del passeggio. Nei castelli venivano assegnate loro stanze comunicanti, di modo che, essendo tutti molto belli, correvano alcune strane voci sulla loro intimità. Mi fu possibile smentirle in maniera assolutamente categorica per ciò che riguardava Saint-Lou. Ma la cosa curiosa è che, più tardi, quando quelle voci risultarono vere per tutti e quattro, si seppe che ciascuno di loro le aveva completamente ignorate per gli altri tre. E tuttavia ognuno doveva certo aver cercato di informarsi sugli altri, sia per soddisfare un desiderio, o meglio, un rancore, sia per impedire un matrimonio o avere in pugno l'amico scoperto. Un quinto, infatti nei gruppi di quattro si è sempre più di quattro, che aveva questo genere di tendenze più spiccate degli altri, si era aggiunto ai quattro platonici, ma scrupoli religiosi lo trattennero anche molto dopo che il gruppo fu sciolto e lui stesso, sposato e diventato un padre di famiglia, implorava Lourdes affinché il prossimo figlio fosse maschio o femmina, ma nel frattempo si buttava sui militari. Malgrado l'atteggiamento del principe, il fatto che il discorso venisse fatto davanti a lui, ma senza essergli rivolto direttamente, lo rese meno furioso di quanto sarebbe stato altrimenti. Inoltre quella serata aveva qualcosa di eccezionale, e tutto sommato l'avvocato non aveva più probabilità di entrare in confidenza con il principe di Foix di quanto non ne avesse il cocchiere che aveva portato fin lì quel nobile signore. Così costui credette di poter rispondere, sempre però con aria sostenuta e senza rivolgergliesi direttamente, a quell'interlocutore che, grazie alla nebbia, era come un compagno di viaggio incontrato su qualche spiaggia ai confini del mondo, battuta dai venti e sepolta nelle nebbie. Perdersi almeno, il fatto è che non ci si ritrova più. La giustezza di questo pensiero colpì il padrone perché aveva già sentito quella frase più volte quella sera. In effetti costui aveva l'abitudine di riferire ciò che sentiva o leggeva a un certo testo già conosciuto e la sua ammirazione si risvegliava se non vi riscontrava differenze. Questo atteggiamento mentale non va sottovalutato perché, applicato ai discorsi politici, alla lettura dei giornali, forma l'opinione pubblica e rende così possibile i più grandi avvenimenti. Molti padroni di caffè tedeschi, ammirando i loro clienti o il loro giornale soltanto quando dicevano che la Francia, l'Inghilterra e la Russia provocavano la Germania, hanno reso possibile ai tempi della crisi di Agadir una guerra che peraltro non è scoppiata. Gli storici si hanno avuto ragione nel rinunciare a spiegare le azioni dei popoli con la volontà dei re, devono sostituirla con la psicologia dell'individuo, dell'individuo medio. In politica il padrone del caffè dove ero appena giunto, da qualche tempo applicava la sua mentalità da professore di recitazione soltanto a un certo numero di pezzi sull'affare Dreyfus. Se non ritrovava nei discorsi di un cliente o sulle colonne del giornale i termini conosciuti, dichiarava l'articolo barboso, e il cliente è poco sincero. Il principe di Foix, invece, lo riempì d'ammirazione, al punto che lasciò al suo cliente appena il tempo di finire la frase «Bendetto, caro principe, ben detto!» che voleva dire insomma recitato alla perfezione. «È così, proprio così!» esclamò gonfiandosi come si legge nelle mille una notte al limite della soddisfazione. Ma il principe era già sparito nella sala piccola. Poi, siccome la vita riprende, anche dopo gli avvenimenti più straordinari, coloro che uscivano dal mare di nebbia ordinavano gli uni le loro consumazioni, gli altri la loro cena, e tra questi alcuni giovani del club del jockey, che a causa del carattere anormale della serata, non esitarono a installarsi a due tavoli nella sala grande, venendo così a trovarsi molto vicini a me. Quel cataclisma, insomma, aveva stabilito perfino tra la sala piccola e la grande, tra tutta quella gente eccitata dal benessere del ristorante, dopo le perdite di tempo, a causa dell'errore nell'oceano brumoso, una familiarità da cui ero escluso soltanto io, e che non doveva essere dissimile da quella che regnava nell'arca di Noè. D'un tratto vidi il padrone sprofondarsi in inchini, i direttori di sala a correre al gran completo, cosa che fece volgere gli occhi a tutti i clienti. «Presto, chiamatemi Ciprian, un tavolo per il marchese di Saint-Lou», ordinava il padrone, per il quale Robert non era soltanto un grande signore che godeva di un autentico prestigio anche agli occhi del principe di Foix, ma un cliente che faceva una gran vita e spendeva in quel ristorante molto denaro. I clienti della sala grande guardavano con curiosità quelli della sala piccola, facevano a gara per farsi notare dall'amico che finiva di asciugarsi le scarpe sullo zerbino. Ma nel momento in cui Robert stava per entrare nella sala piccola e mi vide in quella grande, «Buondio, ma che cosa fai lì? È con la porta aperta per giunta», esclamò, non senza gettare un'occhiata furiosa al padrone che corse a richiuderla, dando la colpa ai camerieri. «Lo dico sempre di chiuderla!» Per andare da lui ero stato costretto a spostare il mio tavolo e anche altri che erano davanti al mio. «Perché ti sei mosso? Preferisci pranzare là piuttosto che nella sala piccola?» «Ma povero, tu gelerai! Fatemi il piacere di bloccare quella porta», disse al padrone. «Subito, monsieur, da questo momento i clienti che verranno passeranno dalla sala piccola. Ecco fatto». E per mostrare meglio il suo zelo, assegnò a un maître e a parecchi camerieri quell'incarico, pronunciando ad alta voce terribili minacce se non fosse stato eseguito alla perfezione. Questo padrone mi rivolgeva a segni eccessivi di rispetto, perché dimenticassi che non erano cominciati al momento del mio ingresso, ma soltanto dopo quello di Sanlù. E perché non credessi, pertanto, che fossero dovuti all'amicizia che mi dimostrava il suo ricco ed aristocratico cliente, mi indirizzava di sfuggita a brevi sorrisi, in cui sembrava manifestarsi una simpatia tutta personale. Dietro di me la frase di un cliente mi fece volgere un attimo il capo. Avevo sentito, invece del solito, ala di pollo? Benissimo. Sì, dello champagne, non troppo secco. Questa ordinazione. Io preferirei della glicerina? Sì, calda. Benissimo. Avevo voluto vedere chi fosse, la sceta che si infliggeva a un tale menù. Volsi subito il capo verso Sanlù per non essere riconosciuto dallo strano buongustaio. Era molto semplicemente un medico che conoscevo, cui un cliente, approfittando della nebbia per trattenerlo in quel caffè, scruccava un consiglio. I medici sono come gli agenti di cambio. Dicono io.